Benvenuti alla mia presentazione Porre fine all'attuale pandemia, prevenire future pandemie. Io sono il dottor Mattia Sarat, sono medico e scienziato. Da circa tre decenni combatto per l'uso di micronutrienti nella lotta globale contro le malattie dell'uomo. In questa battaglia sono stato supportato da un team di scienziati e migliaia di persone che hanno stretto un'alleanza globale per contribuire a rendere la prevenzione delle malattie un diritto umano fondamentale. Dopo che l'umanità ha deciso di liberarsi dalla dipendenza delle energie fossili e scegliere un futuro basato sull'energia rinnovabile, ora una seconda lotta, ancora più grande, per la liberazione globale è davanti a noi, la liberazione della salute umana. Anche in questo caso, un intero settore della vita umana, la nostra salute, deve essere liberato da una fatidica dipendenza di un business di investimento che si basa sull'espansione delle malattie come mercato multimiliardario per i suoi farmaci brevettati. La pandemia virale che ha ossessionato l'umanità negli ultimi mesi può aiutarci a prendere le giuste decisioni. All'inizio dell'attuale pandemia ho scritto una lettera aperta al popolo e ai governi del mondo, condannando il fatto che milioni di persone in tutto il mondo sono state e sono state private di informazioni cruciali nella lotta contro la pandemia, informazione scientifica sull'importanza delle vitamine e di altri micronutrienti necessari a rafforzare il nostro sistema immunitario e quindi la promozione delle vitamine come misura essenziale per le persone per combattere con successo la pandemia. È un dato di fatto che l'unico modo scientificamente provato per rafforzare il nostro intema al sistema immunitario è un apporto ottimale giornaliero di vitamine e di altri micronutrienti. In questo video vorrei rispondere ad alcune importanti domande che ho ricevuto nelle ultime settimane. Ad esempio, che cos'è un virus? Come si sviluppa un'infezione virale? Quale ruolo svolgono i micronutrienti nel controllo delle infezioni virali? Quali prove scientifiche ha fornito il nostro istituto di ricerca sui benefici per la salute delle vitamine nel contribuire a combattere le sfide virali per la nostra salute? Le due domande più importanti ovviamente sono come si può prevenire l'attuale pandemia e cosa possiamo fare già oggi per aiutare a prevenire future pandemie? Innanzitutto, dobbiamo rispondere alla domanda che cosa sia un virus? I virus sono minuscoli agenti infettivi che possono moltiplicarsi solo se entano nelle cellule di un ospite ad esempio il nostro corpo o altri organismi viventi. I virus sono costituiti da materiale genetico ad esempio DNA o RNA un involucro e alcune proteine sulla superficie che consentono a questi virus di legare e infettare le cellule del corpo. Per capire meglio dovremo esaminare più da vicino la differenza tra batteri e virus. I batteri sono organismi viventi definiti che possiedono l'intero macchinario cellulare immagazzinato all'interno per la loro riproduzione. Sono relativamente grandi quindi sono visibili al microscopio. I virus, d'altro canto, sono circa 100 volte più piccoli dei batteri e possono essere visti solo con un microscopio elettronico. Non sono organismi viventi in senso genuino poiché possono riprodursi solo con l'aiuto di una cellula ospite. Sulla loro superficie i virus trasportano proteine specifiche che usano per connettersi a determinati ancoraggi sulla superficie delle cellule del corpo. Questo meccanismo di ancoraggio è un prerequisito per l'infezione. Due dei tipi più importanti di queste proteine di superficie sono gli enzimi neuraminidasi, abbreviati dalla lettera N, e le proteine emoaglutinina, caratterizzate dalla lettera H. Più avanti, conosceremo queste abbreviazioni in modo più dettagliato, ad esempio quando parleremo del virus dell'influenza H1N1. I virus possono avere un aspetto piuttosto diverso, ma sono molto simili nella loro funzione. Questa immagine mostra esempi di virus molto noti a noi, il virus del morbillo, il virus dell'herpes, il virus dell'epatite B e il virus Ebola. In queste immagini si possono vedere tre rappresentanti del virus SARS che includono il virus che causa l'attuale pandemia. Il termine SARS sta per sindrome respiratoria acuta grave. La prima epidemia di SARS causata dal virus della corona di tipo 1 è iniziata nel 2003. Nel 2012 un'epidemia è iniziata in Medio Oriente che è stata quindi denominata sindrome respiratoria del Medio Oriente o in breve MERS. E nel 2019 l'epidemia è iniziata con un'altra variante del virus corona che ha ricevuto la designazione ufficiale SARS coronavirus type 2. Questo virus è la causa dell'attuale pandemia. Passiamo ora alla domanda su come si sviluppa un'infezione da virus. Sebbene i virus abbiano un aspetto diverso, fondamentalmente usano gli stessi meccanismi per moltiplicarsi all'interno delle cellule ospiti e poi diffondersi in tutto il corpo. Una volta che hanno invaso le cellule ospiti, ad esempio le cellule del tessuto polmonare, riprogrammano il software biologico, noto come DNA o RNA. In questo modo assicurano che questa cellula funzionerà d'ora in poi per la riproduzione e la diffusione del virus. Oltre a produrre nuovi virus, queste cellule devono anche produrre le forbici biologiche, che consentono ai virus di diffondersi nel corpo. Questi sono enzimi che sono in grado di digerire il collagene e rompere il tessuto connettivo circostante per consentire ai virus di diffondersi. Dopo che il virus ha abusato delle cellule del corpo per un po' di tempo per riprodursi, queste cellule non sono più vitali, esplodono e rilasciano innumerevoli altri virus. Questa illustrazione mostra lo scoppio delle cellule infette e il rilascio di nuovi virus. Passiamo ora al ruolo decisivo dei micronutrienti nella lotta alle infezioni virali. Questo diagramma illustra da un lato il ciclo fatale esistente tra la malnutrizione, in particolare una carenza cronica di micronutrienti, e dall'altro lo sviluppo di malattie infettive. In particolare, una carenza di alcuni micronutrienti come la vitamina C, le vitamine del gruppo B e altri micronutrienti porta a un sistema immunitario indebolito, il che significa una maggiore suscettibilità alle infezioni virali e ad altre malattie infettive. Se l'infezione si diffonde, la lotta del corpo contro gli invasori si traduce in un aumento del consumo di energia biologica nelle cellule del corpo. Il mantenimento di questo campo di battaglia biologico, così è come si può descrivere una grave infezione, comporta un consumo elevato e continuo di micronutrienti essenziali. In questo modo, si sviluppa un ciclo fatale nel corpo dei pazienti con malattie infettive, con esito spesso mortale. Comprendere questo ciclo è cruciale per i pazienti, i professionisti della salute e per i legislatori responsabili della politica che si occupano della salute delle persone nelle loro città o paesi. Il fatto che carenze vitaminiche facilitano lo sviluppo di malattie infettive è noto da secoli. Nel caso della malattia dei marinari chiamata scorbuto, causato da una mancanza di vitamina C nel corpo, l'insorgenza di infezioni era una caratteristica affiancata dalla perdita di sangue. Già nel XVIII secolo il medico inglese James Lint descrisse le ulcere purulente della pelle e della bocca, che sono chiari segni di infezione, come caratteristiche di questa malattia da carenza vitaminica. Oggi, quasi 300 anni dopo, è scientificamente provato che un apporto ottimale di vitamine dal nostro cibo quotidiano o dagli integratori è un prerequisito per la funzione ottimale del nostro sistema immunitario. L'aumento dell'apporto vitaminico ha dimostrato scientificamente di migliorare ogni fase decisiva della nostra difesa immunitaria. Ad esempio, le vitamine aumentano la produzione di globuli bianchi, le cellule polizia del nostro corpo, aumentano la velocità di migrazione di queste cellule di difesa attraverso il tessuto corporeo o verso il sito di infezione, migliorano la capacità delle cellule di difesa di ingoiare i patogeni e quindi di ucciderli e accelerano la rimozione dei rifiuti cellulari risultanti. La combinazione dell'aminoacido lisina con la vitamina C è di particolare importanza nella difesa contro le malattie virali. Quasi tre decenni fa ho pubblicato un articolo scientifico insieme al vincitore del premio Nobel dottor Linus Pauling. Abbiamo descritto come le cellule infette da virus, così come le cellule tumorali, producono proteine che dissolvono il tessuto connettivo circostante e che possono essere inibite con l'aiuto dell'aminoacido lisina o derivati dalla lisina sintetica. La nostra pubblicazione a quel tempo si concluse con la previsione L'uso della lisina, specialmente in combinazione con la vitamina C, porterà a una svolta nella lotta contro molte infezioni virali, ma anche altre malattie. Diamo ora un'occhiata più da vicino a come i diversi micronutrienti sono efficaci nel bloccare la diffusione dei virus. Se si è già verificata un'infezione, il primo passo per arrestarla è ridurre la moltiplicazione dei virus all'interno delle cellule. Questo viene fatto con l'aiuto della vitamina C, nonché con N, acetilcisteina e altri micronutrienti. Quindi, come già discusso, è importante prevenire la diffusione dei virus nel corpo. Oltre alla vitamina C e alla lisina, i cosiddetti estratti di polifenoli, ad esempio il tè verde, sono particolarmente utili a questo scopo. Quando si tratta della prevenzione delle infezioni virali, il primo obiettivo è quello di rinforzare la pelle, il rivestimento cellulare del polmone e altre strutture barriera del corpo che determinano essenzialmente il tasso di ingresso del virus nel nostro corpo. Ciò include, in particolare, gli strati esterni cellulari della pelle, i polmoni e il tratto digestivo. Oltre alla vitamina C, gli amminoacidi, lisina e prolina svolgono un ruolo speciale in questo contesto. Se i virus non sono attivi durante un'infezione acuta, spesso si nascondono nelle cosiddette strutture biofilm. Questi sono una sorta di nascondigli per questi microbi. Un esempio di tali biofilm sono le placche dei denti. La vitamina C e vari altri micronutrienti possono inibire il rilascio di virus da questi nascondigli all'interno del nostro corpo e persino eliminarli. Abbiamo già discusso del ruolo dei micronutrienti nel rafforzare il sistema immunitario. Il loro ruolo di antiossidanti nella protezione delle cellule dai cosiddetti radicali liberi è ben noto. Meno noto è il fatto che i globuli bianchi usano anche radicali liberi come armi nella lotta contro il virus e altri agenti infettivi. Quindi richiedono elevate quantità di vitamina C per prevenire danni inutili ai tessuti. Questa immagine mostra i micronutrienti più importanti che servono per rafforzare il sistema immunitario. Oltre alle note vitamine, questi includono minerali e oligoelementi come zinco, selenio, rame e altri. Inoltre sono importanti specifiche sostanze naturali delle piante come il gruppo di polifenoli. Infine speciali acidi grassi e probiotici aiutano anche a ottimizzare il nostro sistema immunitario. Passiamo ora alle prove scientifiche pubblicate dal nostro istituto di ricerca sull'utilizzo dei micronutrienti nella lotta contro le malattie virali. Ormai da oltre due decenni il nostro istituto di ricerca in California ha svolto un lavoro pionieristico nel campo della salute naturale basata sulla scienza. Guidato dalla dottoressa Alexandra Nitzvicki il nostro team scientifico ha condotto studi sull'aterosclerosi e sul cancro nonché sul ruolo dei micronutrienti contro le malattie virali. In questa presentazione posso affrontare solo alcuni di questi studi scientifici. In un primo importante progetto di ricerca abbiamo studiato l'efficacia dei micronutrienti contro l'influenza una delle malattie virali più comuni nell'uomo. Abbiamo studiato il virus dell'influenza H1N1 che prende il nome dalle sopra menzionate proteine di superficie del virus emaglutinina H1 e neuraminidasi N1 Abbiamo studiato le infezioni influenzali come primo obiettivo di ricerca anche perché fino ad oggi non esiste ancora un trattamento efficace per questa malattia diffusa. Quindi volevamo sapere se i micronutrienti sono in grado di ridurre il rischio di infezione da virus dell'influenza e a contribuire a ridurne la diffusione. In questi studi abbiamo ottenuto informazioni molto importanti anche rispetto ad altre malattie virali. La combinazione di micronutrienti che abbiamo sviluppato nel nostro istituto è stata in grado di inibire la produzione e l'attività dell'enzina neuraminidasi sulla superficie del virus dell'influenza H1N1. Senza l'attività di questo enzima questi virus influenzali non sono in grado di penetrare e infettare le cellule del corpo. La stessa combinazione di micronutrienti è stata in grado di inibire la moltiplicazione del virus dell'influenza nelle cellule infette in modo che il virus non potesse continuare a diffondersi. In queste serie di test è stato particolarmente interessante notare che questa combinazione di micronutrienti era molto più efficace della sola vitamina C nell'inibire la moltiplicazione del virus all'interno delle cellule infette. Mentre la vitamina C è stata in grado di sopprimere la moltiplicazione del virus del 20%, la combinazione di micronutrienti è stata in grado di inibire la moltiplicazione virale di oltre il 70%. Questi risultati dello studio hanno sottolineato l'importanza della sinergia di micronutrienti ovvero l'interazione positiva di diverse sostanze naturali nella lotta contro virus e altri agenti invasori. Un secondo tipo di virus che abbiamo studiato era il tipo di influenza H5N1 meglio noto come il virus dell'influenza aviaria. Mentre il nome implica che questo virus infetta solo gli uccelli in realtà provoca anche malattie negli esseri umani. Rispetto al diffuso virus dell'influenza H1N1 il virus dell'influenza aviaria può causare malattie ancora più gravi. Per combattere il virus dell'influenza aviaria l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un farmaco farmaceutico che abbiamo sviluppato fosse superiore in efficacia rispetto alla droga farmaceutica Tamilflu nella lotta contro questo pericoloso tipo di influenza. Se le cellule del corpo umano vengono sperimentalmente infettate dal virus H5N1 l'80% delle cellule muore e solo il 20% sopravvive. Questo valore viene utilizzato come controllo. Se queste cellule umane con infezione virale vengono trattate contemporaneamente con una combinazione di micronutrienti c'è una differenza radicale. Invece di un tasso di sopravvivenza del 20% ora sopravvive il 90% delle cellule infette. Ciò significa che in presenza di questa combinazione di micronutrienti il virus ha ampiamente perso il suo effetto distruttivo all'interno della cellula. Al contrario il farmaco Tamilflu ha un effetto protettivo molto più basso con solo il 50% delle cellule umane sopravvissute. Un altro farmaco commercializzato a livello globale Amatadine non ha mostrato alcun effetto rispetto al controllo. In breve i micronutrienti hanno protetto le cellule infette in un modo molto più efficace dei farmaci raccomandati dall'OMS. I micronutrienti sono efficaci anche contro altri virus. Nel nostro istituto di ricerca e in collaborazione con altri istituti di ricerca abbiamo dimostrato l'importanza dei micronutrienti nella lotta non solo all'influenza e al virus della viaria ma anche all'HIV il virus associato all'AIDS. Per maggiori informazioni consultate il sito web del nostro istituto di ricerca. altri gruppi di ricerca hanno trovato un effetto inibitore simile di diversi micronutrienti contro molti altri virus tra cui il virus dell'herpes citomegalovirus e altri. Passiamo ora alla domanda su come l'attuale pandemia poteva essere prevenuta. In che modo un'infezione può trasformarsi in una pandemia? Esistono due condizioni preliminari affinché un'infezione originata in una regione del mondo si diffonda a livello globale diventa una pandemia. Primo una mutazione del pateriale genetico di un virus che lo rende più aggressivo. Secondo un sistema immunitario indebolito di centinaia di milioni di persone che rende il loro corpo suscettibile alle infezioni. Parliamo della prima condizione preliminare che rende un virus più aggressivo. Qui si può vedere la struttura di un virus la sua architettura biologica di base. Uno dei fattori decisivi che determina sia il rischio di infezione che la gravità di una malattia virale sono le differenze nella struttura degli aminoacidi e delle proteine sulla superficie di un virus. I virus mutano spesso ovvero il materiale genetico cambia nel tempo. Ciò porta a un cambiamento nella struttura e nella funzione dei mattoni gli aminoacidi che compongono le proteine. Queste mutazioni casuali nel materiale genetico possono aumentare significativamente il rischio di infezione trasformando un virus precedentemente innocuo in uno più aggressivo e causare in tal modo un'epidemia. Un esempio particolarmente eclatante è la cosiddetta influenza spagnola iniziata alla fine della prima guerra mondiale. Un minimo cambiamento strutturale la sostituzione casuale di un singolo aminoacido in una proteina di superficie ha trasformato un virus influenzale convenzionale in una variante aggressiva. Nonostante la comparsa del virus influenzale spagnolo sia la stessa di quella di un normale virus influenzale si è trasformata in un microorganismo molto più mortale. Questo cambiamento si basava sullo scambio di un singolo aminoacido in una catena di oltre 400 aminoacidi che compongono la rispettiva proteina della superficie virale. In questa illustrazione quella sostituzione di aminoacidi è contrassegnata da una stella rossa. Un simile cambiamento strutturale causato da una mutazione genetica ha trasformato il precedente coronavirus in una variante più aggressiva causando l'attuale pandemia. È interessante notare che le mutazioni genetiche nei virus e in altri organismi si verificano frequentemente. Sono eventi casuali che non possono essere prevenuti. La seconda condizione preliminare per una pandemia tuttavia è un fattore che possiamo influenzare molto bene. Il secondo fattore che determina la velocità con cui una malattia virale si diffonda a livello globale è un sistema immunitario indebolito in centinaia di milioni di persone. Le pandemie di solito si verificano durante periodi di crisi e di guerre quando milioni di persone soffrono la fame poiché le persone non hanno quasi accesso a frutta e verdura fresca o integratori alimentari in tali periodi soffrono in particolare di una carenza di micronutrienti. Di conseguenza lo scorbuto e altre malattie da carenza vitaminica si diffondono in proporzioni epidemiche. La fame e la malnutrizione sono una realtà quotidiana nei paesi in via di sviluppo fino ad oggi rendendo fino a due terzi della popolazione mondiale suscettibile alle malattie infettive. Ma anche in altre parti del mondo ci sono stati molti eventi che hanno causato la malnutrizione a lungo termine in milioni di persone. Un esempio è l'influenza spagnola di cui abbiamo già parlato. Non è un caso che questa pandemia sia iniziata durante gli ultimi anni della prima guerra mondiale quando centinaia di milioni di persone in Europa e in altre parti del mondo hanno sofferto la fame e la malnutrizione. Durante e dopo la prima guerra mondiale le carenze croniche nel cibo fresco ricco di vitamine era un prerequisito per lo sviluppo di questa malattia infettiva in una pandemia che alla fine distrusse tra le 20 e le 50 milioni di vite. Verrebbe da dire ma all'inizio dell'anno non c'è stata guerra mondiale o crisi globale quando è iniziata l'attuale pandemia. La risposta è sì ma ci sono altre molto più subdule ragioni per centinaia di milioni di persone che soffrono di carenza di vitamine. Per decenni i lobbisti dell'industria degli investimenti farmaceutici hanno intrapreso una guerra di disinformazione contro l'umanità nel suo insieme. Il loro obiettivo era quello di screditare o addirittura vietare le terapie vitaminiche come l'unico modo scientificamente provato per migliorare la nostra difesa immunitaria. Trattenendo sistematicamente queste informazioni salva vita questi interessi hanno assicurato che la difesa immunitaria di centinaia di milioni di persone fosse mantenuta a un livello minimo. Ciò a sua volta ha facilitato l'ascesa di pandemie ripetute e di conseguenza la crescita esponenziale del mercato globale dei farmaci farmaceutici brevettati. Per oltre un secolo l'industria degli investimenti farmaceutici multimiliardaria ha cercato di espandere il proprio mercato globale di farmaci brevettati. Per combattere la diffusione di informazioni sanitarie sul significato delle vitamine e di altre terapie naturali non brevettabili le parti interessate di questo settore degli investimenti ha creato un esercizio globale di lobbisti nei media nella politica e nella medicina. Durante l'attuale pandemia molti di questi lobbisti sono apparsi quasi ogni giorno nei media come i cosiddetti esperti ma anche come politici che fanno eco criticamente alla propaganda di tali lobbisti. Nel corso di questa presentazione posso fare riferimento solo ad alcuni tentativi della lobby farmaceutica di vietare le terapie vitaminiche su scala globale. Per comprendere la natura globale e strategica di questi sforzi vi invito a fare una ricerca online utilizzando parole chiave come Codex Alimentarius regolamento sulle indicazioni sulla salute dell'UE di Bruxelles di vieto di terapie vitaminiche e parole chiave simili. Il sito web della nostra fondazione la Dr. Rat Health Foundation fornisce una documentazione dettagliata sulla nostra battaglia di tre decenni per rendere la salute naturale e preventiva un diritto umano fondamentale. L'attuale pandemia conferma la carenza vitaminica come condizione preliminare per la diffusione globale di un'epidemia. Vediamo ad esempio la pandemia 2019-2020 si è diffusa più rapidamente e dove il tasso di mortalità è stato particolarmente elevato. Nei paesi in via di sviluppo centinaia di milioni soffrono di malnutrizione della fame e in particolare di carenza di micronutrienti costituendo così un terreno fertile per le pandemie. L'Italia la Spagna e alcuni altri paesi soffrono di economie cronicamente deboli. Il popolo iraniano è colpito da anni da sanzioni economiche con carenza di frutta fresca. La qualità alimentare delle case di riposo e di altre istituzioni in molti paesi è cronicamente bassa. Le persone che vivono a New York e dozzine di megalopoli in tutto il mondo sono alimentate principalmente da conserve carenti di vitamine o fast food come fonte primaria di alimentazione quotidiana. Il ruolo fondamentale delle vitamine nel combattere l'attuale pandemia è stato anche sottolineato in un altro modo. La vitamina C endovenosa è stata utilizzata con successo nelle cliniche in Cina e negli Stati Uniti per combattere le infezioni gravi durante l'attuale pandemia. Ad esempio ecco il titolo del quotidiano britannico Daily Mail. Gli ospedali di New York stanno curando i pazienti con coronavirus con alti dosaggi di vitamina C dopo risultati promettenti dalla Cina. Veniamo ora al punto in cui possiamo sintetizzare la nostra analisi e presentare le lezioni chiave apprese dall'attuale pandemia con l'obiettivo di aiutare a prevenire future pandemie. Le leggi scientifiche per aiutare a prevenire future pandemie. Le basi di queste leggi scientifiche è il fatto che il ruolo delle vitamine e di altri micronutrienti per un sistema immunitario ottimale è documentato essenzialmente in ogni libro di testo di biologia, biochimica e altre scienze basilare dei processi vitali in tutto il mondo. Alcuni di questi libri di testo come quello mostrato qui l'internazionale manuale di biochimica di Thomas Darwin ha interi capitoli su vitamine e minerali le loro esigenze e funzioni nel nostro corpo. Sorprendentemente mentre il ruolo essenziale delle vitamine per il sistema immunitario e altri benefici per la salute sono stati documentati in questi libri di testo delle scienze basilari dei processi vitali da mezzo secolo ormai questa informazione salvavita è strategicamente tenuta fuori dai libri di testo della medicina orientata alla farmaceutica. Questo blackout strategico non è una coincidenza è un muro di censura costruito dal settore degli investimenti farmaceutici al fine di garantire che i futuri medici siano formati principalmente come sostenitori di farmaci brevettati la merce chiave del settore degli investimenti dell'industria farmaceutica. questo muro è anche la spiegazione del fenomeno che durante l'attuale pandemia i virologi e altri opinionisti medici hanno sfilato in televisione e in altri media come esperti senza fare riferimento al ruolo chiave dei micronutrienti nel combattere con successo la pandemia. Alcuni di questi cosiddetti esperti hanno persino screditato le suddette informazioni sulla salute data dalle vitamine e dai libri di testo di biochimica e biologia come notizie false. Questa analisi che fa riflettere rende necessario riportare le lezioni apprese sulla pandemia attuale in un'equazione con chiarezza quasi matematica. Questa chiarezza è il presupposto per l'accettazione globale di questa equazione come chiave per l'umanità per prevenire future pandemie. Diamo un'occhiata a questa equazione per prevenire le pandemie. Abbiamo già parlato del fatto che le possibilità di prevenire le future pandemie dipendono essenzialmente da due fattori. Primo l'aggressività di un virus emergente e in secondo luogo la forza del sistema immunitario delle persone nel mondo. In breve più forte è il sistema immunitario delle persone e minore l'aggressività del virus mutato maggiori sono le possibilità di prevenire una pandemia. L'unico fattore in questa equazione che noi persone possiamo influenzare direttamente è il rafforzamento del nostro sistema immunitario e quello delle persone della nostra comunità e nel nostro paese. E c'è solo un modo scientifico per raggiungere questo obiettivo l'assunzione giornaliera ottimale di vitamine e altri micronutrienti nella dieta o sotto forma di integratori alimentari. Quindi se rafforziamo il nostro sistema immunitario aumentiamo le nostre possibilità di prevenire una pandemia. Da questa equazione possiamo anche imparare che un sistema immunitario ottimale è la misura migliore per aiutare a prevenire future pandemie indipendentemente dall'aggressività dei nuovi agenti infettivi emergenti. Se le condizioni per il verificarsi e la prevenzione di pandemie possono essere riassunti in una tale equazione logica possiamo essere sicuri che anche gli stakeholder del settore degli investimenti farmaceutici conoscano questa equazione. In effetti per quasi un intero secolo questi interessi speciali hanno cercato di distorcere questa equazione scientifica per servire i loro spietati interessi commerciali. A tal fine hanno impiegato un semplice trucco hanno cercato di eliminare strategicamente uno dei due fattori in questa equazione. Per raggiungere questo obiettivo e mantenere le conoscenze di base di biochimica e biologia fuori dalla pratica e dall'educazione medica e in definitiva dalla consapevolezza dell'umanità hanno creato un esercito di lobbisti in politica nei media e in medicina che non ha altro compito che quello di diffondere le false notizie della loro equazione farmaceutica troncata. Eliminando strategicamente un fattore vale a dire la possibilità di milioni di persone di rafforzare il proprio sistema immunitario attraverso l'alimentazione questa equazione falsa del settore degli investimenti farmaceutici recita le possibilità di prevenire le pandemie dipendono esclusivamente da farmaci brevettati o vaccini brevettati commercializzati con la pretesa di ridurre l'aggressività di un virus emergente o di un altro agente infettivo se non riconosciamo questo trucco e accettiamo questa equazione falso farmaceutica come reale si hanno conseguenze drammatiche per la salute e la vita di centinaia di milioni di persone oggi e in futuro poi diamo volontariamente via al controllo della nostra salute e deleghiamo il nostro destino al settore degli investimenti in medicina quindi noi gente del mondo che vive oggi e le generazioni future saremo trattati come pecore in attesa di un'immunità da gregge saremo costretti a metterci in quarantena ancora e ancora e saremo sistematicamente privati dei diritti umani fondamentali se continueremo ad accettare questa falsa equazione saremo prevedibilmente colpiti da molte altre pandemie in futuro e in ogni caso dovremo aspettare mesi o anni per un presunto nuovo farmaco o vaccino ogni volta subendo conseguenze altrettanto devastanti per la nostra salute e le nostre economie come abbiamo appena sperimentato se restiamo fermi ora apriamo consapevolmente la strada agli investimenti nel settore farmaceutico per consolidare ulteriormente il loro manopoglio sulla salute globale ora possiamo spiegare l'assalto sincronizzato dei media che tutti abbiamo sperimentato durante l'attuale pandemia immagina di essere uno stakeholder o un dirigente del business degli investimenti farmaceutici multimiliardari devi assicurarti che le persone nel mondo non sappiano mai la verità sui benefici delle vitamine sulla salute i tuoi lobbisti devono screditare travolgenti benefici delle vitamine per la salute le parti interessate in politica devono vietare qualsiasi dichiarazione di salute preventiva o terapeutica sulle vitamine e gli opinion leader medici che dipendono da te devono assicurarsi che generazioni di giovani medici non imparino mai la verità sulla salute naturale basata sulla scienza in sintesi questa equazione ci consente di comprendere meglio gli eventi a cui milioni di persone in tutto il mondo hanno assistito durante l'attuale pandemia vale a dire il deliberato nascondere i benefici salvavita delle vitamine da parte di esperti e politici il silenzio inspiegabile di molti medici e cliniche durante l'attuale pandemia riguardo le vitamine come unico modo scientifico per rafforzare il sistema immunitario generale e l'azione responsabile di molti media discreditare pubblicamente i benefici delle vitamine come notizie false inoltre possiamo ora spiegare anche tutti gli sforzi politici internazionali per vietare le terapie vitaminiche sono guidati dai governi di quei pochi paesi che sono i principali esportatori del business delle farmaceutiche brevettato da molti miliardi di dollari tali sforzi sono molto concreti e in corso includono la cosiddetta commissione Codex Alimentarius uno sforzo globale per vietare le terapie vitaminiche un divieto a livello europeo imposto dall'Unione Europea di Bruxelles con il termine innocente regolamento sulle indennità sanitarie nonché le indennità giornaliere raccomandate o RDA sulle vitamine questi RDA sono deliberatamente fissati su valori estremamente bassi al fine di trasformare sistematicamente il corpo di milioni di persone in un terreno fertile per nuove malattie comprese le pandemie virali e quindi sfruttandolo come un mercato in crescita per il settore degli investimenti con farmaci brevettati parliamo brevemente di Codex Alimentarius per diversi decenni il governo tedesco ha coordinato uno sforzo internazionale verso un divieto globale di terapie vitaminiche il nome in codice Codex Alimentarius nascondeva la vera natura di questo sforzo questo divieto globale di salute naturale era una misura protezionistica per conto degli esportatori multinazionali di farmaci già a 20 anni fa la nostra alleanza della salute ha protestato contro questi piani con manifestazioni a Berlino e in altre città nei miei discorsi ai raduni di Berlino ho avvertito i rappresentanti del governo tedesco che hanno ospitato queste conferenze internazionali i loro piani avrebbero inevitabilmente portato a epidemie di malattie prevedibili in futuro esattamente questo è ciò a cui il mondo sta assistendo ora due decenni dopo e già a quel tempo dicevamo no a questi piani per conto degli interessi sanitari delle persone di tutto il mondo penso che sia tempo che le persone tutti coloro che stanno guardando in questo momento questo video partecipino a questo sforzo o quante pandemie vogliamo affrontare in futuro consideriamo brevemente i vaccini attualmente propagandati dai lobbisti farmaceutici in medicina media e politica come unica risposta all'attuale pandemia anche un potenziale vaccino contro il virus che causa l'attuale pandemia è diretto solo contro questo singolo virus tale vaccinazione non proteggerà da future infezioni epidemie e pandemie con virus mutati o altri agenti patogeni d'altra parte un sistema immunitario sano rafforzato da un apporto regolare e ottimale di vitamine può aiutare a evitare future malattie infettive e ritorne quindi la diffusione l'intero capitolo della mia presentazione sull'equazione scientifica sulla pandemia propone un ultimo obiettivo consentire all'umanità di adottare misure preventive ora al fine di prevenire future pandemie per raggiungere questo obiettivo dobbiamo lavorare per il miglioramento del sistema immunitario di tutte le persone promuovendo i benefici di vitamine e altri micronutrienti sulla salute ovunque viviamo la profonda conoscenza dei benefici delle vitamine sulla salute dai libri di testo di biologia e biochimica deve diventare la base dell'educazione alla salute nelle scuole di tutto il mondo ma il significato di questo messaggio va anche oltre esso apre la strada all'umanità dalla paura delle future pandemie a solide strategie di salute pubblica per la loro prevenzione dalla delegazione della salute al coinvolgimento di tutti giovani e meno giovani e dalla dipendenza dalla salute alla liberazione della salute riassumiamo riassumiamo quindi i messaggi chiave di questa presentazione l'unico metodo scientificamente provato per rafforzare il sistema immunitario è un apporto giornaliero ottimale di vitamine e altri micronutrienti l'unico metodo scientificamente provato per prevenire lo sviluppo di una malattia infettiva regionale in una pandemia è quello di fornire alla popolazione mondiale l'accesso a un apporto sufficiente di alimenti ricchi di vitamine o integratori alimentari l'unica ragionevole politica sanitaria per prevenire future pandemie è quella di diffondere le conoscenze sul significato delle vitamine nelle scuole e in tutte le altre aree della società e garantire un apprivigionamento ottimale di micronutrienti all'intera popolazione quindi se consideri importanti queste informazioni ciò che puoi fare ora è aiuta a diffondere queste informazioni condividi il link di questa presentazione con la tua famiglia i tuoi amici e con le persone che vivono nella tua comunità dopo aver visto questo video puoi condurre le tue ricerche sul significato che le vitamine hanno per la salute e altri micronutrienti su internet nella più grande biblioteca di salute del mondo pubmed.gov troverai decine di migliaia di studi su parole chiave come infezioni vitamine sistema immunitario antiossidante e termini di ricerca simili ti invito a non credere più a nessuno dei cosiddetti esperti o politici giornali o programmi televisivi perché nascondono o screditano i benefici delle vitamine per la salute nel rafforzare il sistema immunitario leggi la lettera aperta in cui ho indirizzato il popolo e i governi del mondo sull'attuale pandemia puoi trovare l'URL qui leggi in particolare l'ultima sezione di questa lettera aperta che fornisce raccomandazioni su come ognuno di noi possa contribuire a creare un nuovo fondamentale inizio nella costruzione di assistenza sanitaria preventiva ci sono raccomandazioni utili in particolare per politici locali governi nazionali governi dei paesi in via di sviluppo persone attente alla salute medici scienziati e soprattutto tutti quei milioni di persone che saranno maggiormente colpite se non agiremo e la pandemia è ancora in corso in molte parti del mondo e continua a minacciare milioni di persone specialmente nei paesi in via di sviluppo non voglio terminare questa presentazione senza offrire possibili soluzioni alle popolazioni dell'Africa dell'America Latina e del sud-est asiatico e così via anche se non si ha accesso agli integratori alimentari si può comunque avere un piccolo giardino o accedere a un terreno di comunità puoi letteralmente far crescere la salute dovunque crescano le piante le piante sono la principale fonte di vitamine e aumentando l'assunzione giornaliera di frutta e verdura ricche di vitamine combattono la fame e le malattie allo stesso tempo più di 50 scuole nella nazione africana dell'Uganda stanno attualmente facendo proprio questo le scuole organizzano programmi educativi su piante e nutrizione ricche di vitamine gli studenti supportano questi programmi organizzando autonomamente i parlamenti sanitari scolastici istituiscono orti scolastici e soprattutto portano interi progetti a casa nelle comunità da cui provengono se desideri ottenere maggiori informazioni puoi farlo sul nostro sito web il movimento della vita se pensi che questo messaggio su come prevenire le pandemie sia solo un'altra comunicazione per coloro che possono permetterselo dovresti ripensarci questo è un messaggio per tutta l'umanità solo se siamo in grado di offrire soluzioni efficaci e convenienti ai più poveri per afforzare la loro resistenza immunitaria allora possiamo davvero prevenire le pandemie quindi oggi l'umanità si trova al crocevia tra due alternative o permettiamo a un piccolo gruppo di interessi finanziariamente potenti di continuare a infliggere pandemie e altre malattie prevenibili sul pianeta causando milioni di morti rovinando aziende e intere economie e limitando gravemente i nostri diritti fondamentali oppure sosteniamo una ristrutturazione strategica del sistema sanitario con l'obiettivo di prevenire le malattie e ridurne significativamente l'incidenza un prerequisito per questo è la conoscenza del significato che i micronutrienti hanno per la salute e di altri rimedi naturali scientificamente provati sostieni la nostra campagna internazionale aiuta a prevenire future pandemie mettiti in gioco diffondi queste informazioni aiuta a prevenire future pandemie ovunque vivi fallo ora fallo per te stesso e per le generazioni future vorrei ora